Papa Francesco incontra in aula Paolo VI 700 membri della comunità Abramo legata al rinnovamento carismatico cattolico nata 30 anni fa nel Vicentino e presente oggi anche a Roma, Torino e in Spagna, Ucraina, Ungheria e Svizzera. Ispirate la vostra vita e la vostra azione evangelizzatrice, l'invito del Papa al grande Patriarca Abramo del quale portate il nome, che vi insegna a obbedire la chiamata del Signore, a sapere ascoltare Dio che parla e a fidarsi di Lui ed essere pronti a partire. Occorre camminare insieme alle persone del nostro tempo, ascoltare ciò che portano nel cuore per offrire loro con la nostra vita la risposta più credibile, cioè che viene da Dio attraverso Gesù Cristo. A me sempre mi fa bene ascoltare quel consiglio che San Francesco d'Assisi ha dato ai frati quando li inviò a evangelizzare. Andate, annunziate il Vangelo e se fosse necessario anche con le parole, con la testimonianza prima. Poi ti domandavano ma perché tu sei così? E lì è il momento di parlare.